Ospil, la stoppata straordinaria di Williams, che va ad inchiodare! Per R5, più basso, attacca lui e fa schiacciare! Pizzini, ribalta poi la palla per Piglianizi, che si punta in penetrazione, arriva Renzi a schiacciare! Il pass, si fa vedere Nick Raivio, prova l'uno contro uno, trova un varco, sbaglia incredibilmente, ma ci pensa Mosley con il tag in a schiacciare nel canestro questo pallone. Prendere, punta Chessa, che poi va da Roberts, palla perza, Sherlock, spinge la transizione di Lawrence, poi a mannato prende la stoppata. Si è ripresa in questo momento con una penetrazione e una schiacciata allucinante di chi? Di Matteo Martini! Due per la capolista di questo campionato, l'aiuto del Casale Monferrato, ripresa creativa di Fabri per Pekker, all'aiuto! Pekker per Roberts, è il showtime totale al Paracalabriore! Rubenzugno, la Caltanissetta, il campione d'Italia con gli under-19 di Cantù, e questa è una magia! 6, meno 6, qua deve andare in fallo sistematico, che non viene fischiato! E la tap in, l'ally up per Witold, assist di Ferguson, arriva adesso il punto esclamativo con una schiacciata al vuolo!